Azeinep, armata di una certa dose di audacia e spensieratezza, decide di mettere in atto un piano che avrebbe potuto cambiare le dinamiche all'interno della famiglia Sezin. La sua idea originale era disseminare il dubbio e il disordine, fingendo di essere incinta di Ozan. Forse, in fondo al suo cuore, sperava che questo la potesse aiutare a cementare il suo ruolo e a trovare una sorta di stabilità in quello che percepiva come un ambiente familiare complesso e, a volte, apertamente ostile nei suoi confronti. La sua speranza era quella di rafforzare la sua posizione, guadagnando rispetto e sicurezza tra le mura di casa Sezin. Ma come spesso accade, la vita ha in serbo sorprese che possono sovvertire ogni aspettativa. Quello che Azeinep aveva pensato fosse solo un piccolo scherzo, una finzione per muovere le acque stagnanti della routine familiare, si trasforma in un colpo di scena che la lascia senza parole. La scoperta di essere davvero incinta segna l'inizio di un capitolo totalmente nuovo e inaspettato della sua vita. Non solo la sua gravidanza è reale, ma porta con sé la rivelazione che il padre del bambino non è Ozan, l'uomo con cui aveva immaginato un futuro, ma Emir, il frutto di un unico incontro appassionato. Questo sviluppo inatteso scuote profondamente Azeinep, catapultandola in una realtà molto diversa da quella che aveva pianificato. La semplice idea di uno scherzo si trasforma in un intricato dramma personale che mette a nudo le complessità dei rapporti umani e delle scelte fatte nel calore del momento. Ora, Azeinep si trova a dover affrontare le conseguenze delle sue azioni, trovandosi nel mezzo di un vortice emotivo che la costringe a rivalutare completamente la sua vita. Di fronte a questa inaspettata svolta degli eventi, Azeinep inizia a riflettere sulle implicazioni di questa gravidanza non solo per sé stessa, ma anche per Ozan, Emir e l'intera famiglia Sezin. La notizia della gravidanza, una volta resa pubblica, non mancherà di scatenare una serie di reazioni a catena all'interno della famiglia, mettendo alla prova le alleanze, le lealtà e il concetto stesso di famiglia. Il cammino di Azeinep diventa un percorso di scoperta personale e di confronto con le realtà a volte dure della vita. La gravidanza, inizialmente pensata come un espediente per ottenere vantaggi in un gioco di potere familiare, si rivela essere un punto di svolta che la costringe a guardarsi dentro, a fare i conti con i propri sentimenti, le proprie responsabilità e le aspettative sul futuro. La sua storia si trasforma in una narrazione di crescita e di comprensione, dove la resilienza e la capacità di adattarsi alle sorprese della vita diventano i temi centrali del suo viaggio personale. Questa scoperta lancia Azeinep in un vortice di emozioni contrastanti. La sua vita amorosa, già intricata e carica di tensioni, ora si complica ulteriormente. Il ricordo di quella notte trascorsa con Emir, che fino a quel momento poteva essere stato relegato a un angolo remoto della sua mente, assume improvvisamente una rilevanza devastante. Azeinep si ritrova a dover affrontare la realtà delle sue scelte e delle circostanze, che l'hanno portata a trovarsi in una situazione tanto delicata quanto inaspettata. La scoperta della sua gravidanza si trasforma per Azeinep in un crocevia emotivo che sfida ogni sua aspettativa e ogni piano precedentemente concepito per il suo futuro. In un contesto in cui l'annuncio di un nuovo arrivo dovrebbe sprigionare felicità e attese condivise, Azeinep si ritrova invece a navigare in un mare di incertezze e preoccupazioni. La vita che aveva meticolosamente cercato di costruire accanto a Ozan, sebbene fondata su premesse non del tutto sincere, le appariva come un rifugio, un'ancora di stabilità in un'esistenza altrimenti turbolenta. Tuttavia, questa costruzione sembra ora vacillare sotto il peso di una realtà inattesa, mettendo in dubbio tutto ciò che credeva fosse sicuro e certo. Dall'altra parte, la gravidanza getta una luce cruda su un legame inconfessabile con Emir, un uomo che, per quanto possa aver rappresentato un capitolo che Zainep avrebbe voluto chiudere e dimenticare, si ritrova ora al centro della sua vita in un modo che non avrebbe mai immaginato. Emir, simbolo di un passato complesso che Zainep ha cercato in tutti i modi di superare e lasciarsi alle spalle, diventa il punto di congiunzione tra lei e un futuro imprevedibile, segnando profondamente la sua esistenza e i suoi piani a lungo termine. Questo conflitto interiore tra il desiderio di mantenere la facciata di una vita pianificata con Ozan e l'ineluttabile realtà della sua gravidanza con Emir, la pone di fronte a scelte difficili. Zainep si trova costretta a considerare non solo le proprie emozioni e aspirazioni, ma anche le possibili conseguenze delle sue azioni sulle persone che la circondano. La prospettiva di dover rivelare la verità su chi è il vero padre del bambino che aspetta è fonte di grande angoscia, poiché tale rivelazione ha il potenziale di sconvolgere le vite di tutti gli interessati. Man mano che si confronta con queste realtà, Zainep inizia a comprendere che la gravidanza, oltre a essere una svolta personale, rappresenta anche un'opportunità di crescita e di introspezione. È chiamata a riflettere sul tipo di vita che desidera per sé e per il suo bambino, sulle persone che vuole avere al suo fianco in questo viaggio e sui valori che intende trasmettere come madre. Questo momento di vita, così carico di complessità emotive e decisionali, diventa per Zainep un'occasione per riscoprire se stessa e per valutare con occhi nuovi le sue relazioni, i suoi desideri e il suo posto nel mondo. Zainep si rende conto che dovrà fare i conti non solo con le proprie emozioni, ma anche con le reazioni di Ozan, Emir e dell'intera famiglia Sezin quando la verità verrà a galla. Ogni passo che farà d'ora in poi determinerà il futuro del bambino, le sue relazioni e la sua stessa identità all'interno della famiglia e della società. Con questa nuova consapevolezza, Zainep si avventura in un percorso che la metterà di fronte a sfide inaspettate, scelte difficili e la ricerca di una stabilità emotiva e familiare in un contesto che ora più che mai appare incerto e in continua evoluzione. Emir, mosso non da sentimenti di affetto ma da un desiderio di vendetta nei confronti di Kemal, decide di avvicinarsi a Zainep. La sua intenzione non è quella di costruire un legame basato sull'amore o sulla comprensione, bensì di utilizzare Zainep come pedina in un intricato gioco di potere. Vedendo in lei uno strumento attraverso il quale poter colpire Kemal, Emir intraprende un'azione calcolata, mascherando le sue vere intenzioni dietro gesti di cortesia e attenzioni che sembrano in superficie genuine. La loro relazione, inizialmente ricca di lusso e attenzioni, convince Zainep dell'amore di Emir, portandola a concludere definitivamente la sua storia con Salih. La decisione di concedersi a Emir e l'illusione di un sentimento reale crollano quando lui la respinge, dopo aver ottenuto ciò che voleva. Decisa a vendicarsi, Zainep seduce Ozan e i due si sposano segretamente, trasferendosi nella residenza dei Sezin. Con il tempo, Zainep percepisce un segreto oscuro nella vita di Ozan, ma la mancanza di fiducia impedisce ogni confidenza. Il segreto riguarda un omicidio compiuto da Ozan. Nel tentativo di integrarsi maggiormente nella famiglia, Zainep finge una gravidanza, chiedendo aiuto a un'amica incinta per il test. La sua truffa viene scoperta da Efsan e Vildan insiste per delle analisi, ma prima che queste possano essere effettuate, si verifica la fuga organizzata da Kemal con Nihan, mentre Ozan fugge con Zainep. In un momento carico di tensione e incertezza, mentre Zainep e Ozan sono in fuga, iniziano a manifestarsi i primi segnali che portano Zainep a interrogarsi sulla possibilità di essere incinta. Questi sintomi, in particolare la nausea che si fa, sempre più insistente, spingono la giovane donna a cercare risposte, spingendola a compiere un gesto carico di significato, acquistare un test di gravidanza in gran segreto. L'ansia e il timore accompagnano Zainep in quei lunghi minuti di attesa, fino al momento in cui, con trepidazione, osserva il risultato, positivo. La conferma della gravidanza la colpisce come un fulmine a ciel sereno, scuotendo le fondamenta del suo mondo interiore. Questo sconvolgente sviluppo porta Zainep a un punto di riflessione cruciale. La rivelazione che il bambino che porta in grembo è di Emir e non di Ozan, il suo attuale marito, solleva una tempesta di emozioni contrastanti. Da un lato c'è il senso di tradimento e la paura delle conseguenze che questa notizia potrebbe avere sulle già complicate dinamiche familiari dei Setsin. Dall'altro emergono dubbi sul futuro, sulla maternità e sulle proprie scelte di vita. Questa scoperta non solo getta Zainep in uno stato di profondo turbamento, ma anche pone l'accento su come un singolo momento, una notte trascorsa con Emir, abbia il potere di alterare irrevocabilmente il corso della sua esistenza. Zainep si trova ora di fronte a una serie di decisioni difficili. Come rivelare la verità a Ozan, l'uomo che credeva fosse il padre del suo bambino? E quale sarà la reazione di Emir una volta appresa la notizia della sua imminente paternità? Queste domande la tormentano, alimentando la sua ansia per il futuro. La gravidanza, un evento che in circostanze normali sarebbe fonte di gioia e speranza, si trasforma in un dilemma carico di implicazioni morali e pratiche. Mentre Zainep naviga in questo mare agitato di emozioni e riflessioni, la storia di Endless Love si arricchisce di una nuova, intensa dimensione. Gli spettatori assistono a una narrazione che esplora temi universali come l'amore, il tradimento, la responsabilità e le scelte difficili che spesso la vita ci impone. La gravidanza di Zainep diventa così un potente catalizzatore narrativo, che promette di guidare la trama verso esiti imprevedibili, sfidando i personaggi a confrontarsi con le proprie paure e desideri più profondi e determinando nuove alleanze e conflitti all'interno del labirinto di relazioni che è Endless Love. Secondo te come reagirà Emir a questa notizia? Scrivilo nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime anticipazioni di Endless Love.